Poi i cosplay possono anche essere creazioni di fantasia senza essere strettamente legate a un personaggio proprio come quello che ci porterà CJ Spencer che ci proporrà un cosplay di sua creazione, un original quindi Damon Hasselworth per i nostri ragazzi che... anche per lui c'è qualche accessorio intanto come va? Tutto bene? Bene Siamo pronti? Allora, Damon Hasselworth e CJ Spencer Amici miei non c'è bisogno che io mi presenti tanto mi conoscete tutti ormai dovreste averlo capito vi ho mentito ma se l'ho fatto non è stato perché mi vergognavo di chi fossi o delle mie origini questi mostri mi hanno trovato abbandonato quando ero solo un neonato avrebbero potuto ignorarmi o persino mangiarmi invece mi hanno adottato ho vissuto in mezzo a loro e ho visto quello a cui sono costretti voglio dirvi che non siamo qui per benicarci ma perché crediamo che ogni essere senziente che cammina su questa terra sia tanto degno di vivere quanto chiunque ha ogni singolo individuo umano, mostro o mezzo sangue che sia ha il diritto di disporre liberamente della propria vita e di rispondere in prima persona dell'abuso che potrebbe fare della propria libertà innanzi ad una legge di fronte alla quale tutti devono essere uguali quella stessa libertà e quella stessa legge che anche a voi sono stati strappati calpestati da un governo che pretende di decidere delle vostre vite nello stesso modo in cui dispone a proprio piacimento di quelle degli schiavi ebbene, io dico quando chi dovrebbe assicurare il benessere di coloro che si rimettono a lui si dimostra indegno della fiducia concessa di il popolo non ha soltanto il diritto ma anche il preciso dovere di alzare la testa e di guidare a piena voce la propria rabbia se anche voi credete che sia giusto sperare in qualcosa di più allora vi chiedo di schierarti al nostro piano e aiutarci a sostituire un mondo migliore un mondo in cui nessun individuo avrà potere vita o di morti sui propri signi un mondo in cui saremo tutti liberi la rivoluzione è iniziata